Gentili telespettatori, buona giornata. Sul caso Open Arms, la PM dice Ex poliziotti infedeli a bordo delle navi ONG informavano Salvini in cambio di posti di lavoro. Quindi arriva una nuova accusa a Matteo Salvini, al vicepremier Salvini, che è imputato in questo processo a vario titolo, l'accusa principale è quella di sequestro di persona e poi altre accuse come sugli atti d'ufficio, però quella più grave è quella di sequestro di persona. Si fa ridere solo a raccontarla, perché insomma, ipotizzare sequestro di persona per aver rallentato lo sbarco per una redistribuzione europea fa abbastanza ridere, però insomma, si vede che non tutti ridono di questo. E però cos'è questa accusa adesso? Poliziotti infedeli a bordo delle navi ONG informavano Salvini in cambio di posti di lavoro? Beh, i tre agenti erano stati ingaggiati come sicurezza privata da Save the Children, c'è un'intercettazione, qualcosa in cambio ci deve dare. E il ministro dice, non mi fanno passare la voglia di lavorare. Allora, sarebbero tre agenti, due cacciati dalla Polizia di Stato e uno in pensione, che accusarono le ONG Medici Senza Frontiere, Rettet e Save the Children, di collusioni con gli scafisti. Accuse finite in un nulla di fatto, sarebbero stati in contatto questi tre agenti con la Lega e con Salvini, a cui avrebbero riferito quanto accadeva sulle navi, delle associazioni umanitarie sulle quali lavoravano come security privata per conto della IMI Security Service. Il fatto è emerso nel corso del processo che vede imputato Matteo Salvini a Palermo, nell'aula bunker, come vi dicevo con l'accusa di sequestro di profughi, sull'imbarcazione spagnola Open Arms, nell'estate del 2019. Quando ai migranti venne negato lo sbarco, ma attenzione, sbarcarono le donne, sbarcarono i mirori, sbarcarono le persone che avevano problemi di salute, rimase sulla nave, sulla banchina del porto un gruppo di migranti, ai quali fu ritardata la discesa, proprio per permettere e sperare in una redistribuzione in Europa di queste persone, sperando che si facessero avanti dei paesi, ai tempi si sperava che qualche paese prendesse qualche migrante. E così quel attendere questa redistribuzione facendo pressione in Europa ha tirato fuori poi l'accusa, proprio il presunto sequestro di persona plurimo. I PM della Procura di Palermo hanno chiesto di sentire come teste i tre ex poliziotti, Floriana Balestra, Pietro Gallo e Lucio Montanino, perché riferiscano del procedimento aperto a Trapani e conclusosi con il proscioglimento di tutti gli imputati, relativo a presunte complicità con i trafficanti di uomini delle ONG, Saved the Children, Medici Senza Frontiera e Jugendrettet. I tre che erano stati assunti da questa agenzia di sicurezza privata, come tipo guardie giurate, ecco, in realtà, secondo l'accusa, erano dei veri e propri infiltrati. Dalla sentenza di proscioglimento del giudice per le udienze preliminari di Trapani, ha spiegato Marzia Sabella, procuratrice aggiunta, si evince chiaramente che registravano quanto accadeva a bordo per riferire e che in cambio delle informazioni chiedevano posti di lavoro. Invece di informare degli eventuali illeciti mai provati, contattarono la Lega e direttamente Salvini, a cui fornivano documenti, filmati e registrazioni per avere vantaggi. Tutti questi elementi risultano dalle intercettazioni a proseguito la procuratrice. Per esempio, nelle intercettazioni c'era scritto «Eh, noi abbiamo alzato sto polverone, qualcosa in cambio ci deve dare, perché insomma, ecco», diceva la Balistri, senza sapere ovviamente di essere intercettata, e aggiungeva «Cioè, tutte ste informazioni e la campagna elettorale piena può fare un bordello che non finisce mai». Ecco. Non si sa, in questo momento, se Matteo Salvini abbia mai risposto alle richieste di questi ex agenti. e non sappiamo neanche se queste richieste di qualcosa in cambio, vabbè, ci sono le elezioni, qualcosa ci deve dare, non si sa se queste richieste fossero poi mai giunte all'orecchio del vicepremier. I magistrati poi dovranno verificare eventualmente se Salvini sapesse queste cose. La difesa della Lega ha chiesto termine per valutare la richiesta di citare come test i tre agenti. Il Tribunale deve decidere, alla fine il Tribunale ha accolto la richiesta di termine della difesa di Salvini per decidere sulle richieste istruttorie dei PM e ha rinviato al 12 luglio il processo. La requisitoria dovrebbe essere fissata poi a settembre. In caso di condanna sicuramente non mi fanno passare la voglia di lavorare di più. Se qualcuno a sinistra spera che in caso di condanna ci sia una Lega condizionata o rallentata, ha trovato il partito sbagliato e il Matteo sbagliato. Non credo più che la sinistra speri in qualcosa del genere. Evidentemente quando hanno autorizzato il processo contro Salvini in Parlamento togliendogli l'immunità, credo che a quei tempi volessero evidentemente far fuori politicamente Salvini. Oggi non credo che sia in cima ai pensieri della sinistra Matteo Salvini e la Lega, anche perché quello che faceva la Lega come primo partito è stato sostituito completamente da Fratelli d'Italia. Pertanto non credo che oggi la sinistra sia lì a sperare chissà che cosa. Oggi credo che l'interesse sia vicino allo zero su questo processo da parte della sinistra. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.